Salve gente! Su questo canale abbiamo parlato tanto di autoeditoria e dunque una riflessione che potrebbe venire spontanea agli autori è che, tutto sommato, degli editori noi non abbiamo più bisogno. Come sapete però, io sono una persona a cui non piacciono molto gli assoluti e quindi volevo fare insieme a voi una riflessione su questo punto. Quella infatti di ritenersi totalmente indipendenti dagli editori, cioè pensare che gli editori tutto sommato siano un vecchiume, che non ci serve più, ormai gli autori sono liberi di fare quello che vogliono eccetera eccetera, da un certo punto di vista è quasi vero, però da un altro punto di vista può risultare una vera e propria trappola per gli aspiranti autori. E a noi le trappole non piacciono, quindi dobbiamo sempre puntare sulla vera consapevolezza per evitarle. Dunque, qual è il problema? Ecco, senza dubbio, oggi come oggi gli autori hanno un'enorme possibilità in più rispetto al passato, perché effettivamente nel passato l'editore era un canale obbligatorio, ecco, per lo scrittore che voleva raggiungere il suo pubblico. Questo non è del tutto vero, se vogliamo. Nel passato, e già ne abbiamo parlato più volte, tanti autori che oggi studiamo, che abbiamo incluso nell'Olimpo del canone letterario internazionale, in realtà si sono autoprodotti in un modo un po' particolare, ne ho già parlato in altri video che magari se riesco a ripescare vi linkerò, però potremmo parlare di una vera e propria autopubblicazione antelitteram, non lo so, quindi esisteva già. Ecco, esiste da un bel po' di tempo. Però rimanendo più o meno ai giorni nostri, fino a una ventina di anni fa, per esempio, era impensabile che uno scrittore bravo si autoproducesse. C'era chi lo faceva, non ne ho dubbi, insomma, non ho dubbi su questo, però era più difficile che arrivasse da qualche parte, anche perché, per esempio, non essendoci internet come mezzo forte, era difficile arrivare al pubblico. Oggi è diverso, e su questo siamo d'accordo. Però questi editori, insomma, a cosa ci servono oggi? Per cercare di eliminare il romanticume che leghiamo sempre, inevitabilmente, al mondo dei libri, farò un altro esempio, cioè all'interno del mondo della musica. Immaginiamo che io sia una cantautrice che è capace di comporre musica da zero, di creare le canzoni, cioè proprio il testo delle canzoni, di cantarle, e ho una band di amici che in garage, insomma, compone tutti insieme, suoniamo, e quindi siamo in grado di produrre proprio una canzone dall'inizio alla fine. A questo punto ci rendiamo conto di essere bravi, magari abbiamo qualche fan tra i nostri amici, conoscenti, e decidiamo che ci piacerebbe proprio incidere un album, cioè creare un set di nostre canzoni e venderle al pubblico. A questo punto, chiaramente, abbiamo una scelta, no? Perché oggi come oggi, teoricamente, potremmo fare da soli, non è impossibile. Anche qui, in passato era molto più difficile, non impossibile, presumo, ma comunque più difficile, oggi come oggi, ma non proprio. E ci sarebbero tantissimi vantaggi nel fare da soli, perché, per esempio, avremmo una percentuale molto più alta di guadagno se vendiamo il nostro album, possiamo gestire tutto da soli, la copertina dell'album ce la facciamo noi, eccetera, eccetera. E soprattutto non dobbiamo aspettare che qualcuno ci scelga, che qualcuno veda in noi una potenzialità commerciale, ma decidiamo noi. Però ci sono anche degli ostacoli, per esempio, prima di tutto, l'investimento economico. Ora, io posso anche suonare in garage, e posso anche essere bravissima a creare delle canzoni e a cantarle, a eseguirle, però se devo vendere il file digitale di quella canzone, lo devo registrare in maniera professionale, no? Cioè, non posso crearlo col cellulare, che poi non si sente niente, si sente l'eco, non si sentono i rumori di fondo, cioè, nella canzone c'è mia madre che mi chiama, quindi sarà una mia necessità cercare di farlo bene, ma per farlo bene mi servono degli strumenti, non solo gli strumenti musicali, che magari ho già, se suono abitualmente, ma uno studio di registrazione che sia insonorizzato, per esempio, potrò affittarlo, non devo per forza comprarmi un palazzo, però costa. Quindi più che suonare in garage, dovrò andare lì a suonare, e soprattutto per registrare il suono dovrò dotarmi di attrezzature quantomeno decenti. Non ha importanza che siano le migliori esistenti al mondo, ma comunque utilizzarle anche solo in affitto mi costerà una certa cifra. Questa è già una prima differenza importante, no? Perché non è detto che io me lo possa permettere, e se dirò, come fanno tanti autori, per esempio, oggi come oggi, eh, ma non me lo posso permettere, non ho i soldi, sono disoccupato, non c'ho tempo, non c'ho voglia, il risultato finale non sarà molto professionale. E questo abbasserà drasticamente le probabilità del mio successo. Perché se poi voi su Spotify trovate queste canzoncine, ma non si capisce nemmeno cosa siano, perché il suono è tutto brutto, e sono registrate male, sono compresse male, tutte queste cose qua, chiaramente non diventerete miei fan, ma penserete, ma chi è questa che mette sta roba qua? Quindi il fatto di investire su questo è importantissimo, ed è un mio dovere, se voglio arrivare da qualche parte, no? Ecco, con un produttore, in quel caso, che è una sorta di, chiamiamolo così, manager, no? Che comunque investe economicamente nel mio successo, perché ci crede, perché pensa di poterci guadagnare, avrei saltato questo problema, perché comunque è lui che paga, lui mi fornisce lo studio professionale, perché magari ce l'ha già, perché lo fa di professione, e mi fa editare il suono da dei professionisti che fanno solo quello per lavoro, quindi lo fanno perfettamente, e il file finale che arriverà al consumatore sarà super professionale, se è bravo il produttore, chiaramente. Dunque, questa è una differenza importante, ed è un motivo per cui l'editore spesso viene ancora ricercato, cioè il fatto che l'autore da solo deve investire su di sé, non con l'editoria a pagamento, attenzione, ma proprio nel confezionare il suo prodotto, che è molto meglio investire su questo, perché il prodotto finale, chiaramente, sarà professionale. Cioè, questo riguarda proprio il mestiere dell'editore, e l'autore deve un po' abbracciarlo al posto del produttore, così come se io voglio incidere un album musicale, se voglio fare da sola, devo sostituire me stessa e i miei soldini a quelli del produttore, che normalmente paga per queste cose. Non si può saltare questo passaggio, ci deve essere lo stesso. Nei libri, come già abbiamo detto mille volte, può riguardare la revisione del testo, la grafica, l'impaginazione, la promozione, tante cose. Infatti c'è anche la questione della promozione, che è un problema, e sappiamo che tanti manager, che siano editori o produttori musicali, se ne fregano, quindi lo fanno ben poco, e buttano tutto un po' sulle spalle dell'artista. Infatti selezionano più facilmente persone, che già abbiano un pubblico pronto da utilizzare, in maniera da non dover investire più di tanto nella promozione, non sono mica scemi. Però di base, trovare un produttore, rimanendo nell'ambito musicale, bravo, che veramente si impegna per costruire quella band, e spingerla in qualche modo, fa la differenza. Effettivamente, un produttore che sa già come si fa, che ha già i contatti giusti, per esempio, che può trovare delle date, per fare dei concerti dal vivo, in determinati posti molto frequentati, può veramente aiutare tantissimo una band a diventare famosa, comunque a farsi conoscere. E lo stesso un po' vale con i libri. Infatti, se è vero che le presentazioni, come diciamo sempre, non servono a un tubo per gli autori di narrativa, è vero anche che piazzando il giusto giornalista, che la fa, che la presenta, che la conduce, il personaggio particolare, cosa che spesso gli editori grandi provano a fare, se vogliamo, ecco allora lì già le cose un po' cambiano. A me è capitato diverse volte, sia di vedere queste situazioni, cioè di vedere un esordiente, che magari era pubblicato da un editore nemmeno così grande, che però magari aveva un amico di famiglia, che è un giornalista famoso, e allora invita lui per presentarlo a un evento particolare, e si fa la fila per entrare in questo posto. E' chiaro che nessuno in quella fila vuole davvero leggere il libro di quel tizio, perché nessuno lo conosce, ma chi è? Ma chi se ne frega? Però c'è quel personaggio lì, che invece che è bello, entro, mi faccio fare l'autografo, magari mi compro pure il libro, così mi posso avvicinare. Ecco la strategia è un po' questa. E questo può essere visto male, appunto mi capita sia questo, sia di sentire autori arrabbiati, che dicono vabbè, cioè è chiaro così Bari, cioè vorrei anch'io avere l'amico di famiglia così, e spesso sono invece amici dell'editore. Quindi avere un aiuto, insomma, non so se mi spiego, può fare una grande differenza inciso. E' chiaro che la raccomandazione è brutta, ragazzi, cioè è chiaro che questo viene visto proprio come una cosa sgradevole da vedere, no? Perché dici, vabbè, certo, mannaggia, io non ho amici fighi, non ho editori che mi aiutano, e anche quello è difficile da trovare, di solito c'è un motivo, e sì, è brutto. Però, se facciamo da soli, chiaramente tutto ciò non ce l'avremo, a meno che non abbiamo gli amici di famiglia, in questo caso presentatemeli, fatemi conoscere qualcuno che mi raccomandi, perché io non ce li ho. A parte gli scherzi, è una nostra scelta, no? Cioè lì comandiamo noi, ecco, quindi possiamo scegliere noi, però in genere chi si autoproduce non ha parenti in paradiso, ecco, e quindi rimane un po' da solo, e sfido chiunque a organizzare una presentazione del proprio libro autoprodotto e riempire la sala, tanto che la gente fa la fila per entrare. Non lo so, fatemi vedere le prove, perché non penso che sia mai successo, se non con Montemagno, che appunto ha una forza tale, di pubblico suo, per i fatti suoi, che le cose sono un po' diverse. Però se noi non ce l'abbiamo quella forza, è chiaro che autoproducendoci, saremo pronti, se siamo intelligenti, a capire che è normale che non vada così. È normale, non siamo noi a fare schifo, ma è normale. Quindi questo aiuto che potevamo avere non ce l'avremo, e dunque questa è un'altra differenza importante. Un'altra questione riguarda il prestigio, e direi che sono queste tre le cose che secondo me hanno davvero importanza, cioè l'investimento economico che appunto l'editore ci risparmia, l'appoggio nella promozione che, ripeto, spesso non c'è, lo sappiamo che di solito non c'è, però potrebbe esserci. È una possibilità in cui noi crediamo, e che però da soli non avremo. E poi c'è il prestigio. Ancora oggi quasi tutti i lettori, cioè o meglio no, non è vero, però molti lettori, diciamo così, sono ancora legati all'idea che l'autore pubblicato dall'editore è meglio, è migliore, è più bravo. Ora, noi che siamo qui, mi auguro, se no, non so, guardatevi gli altri video cosa ci fate qui, sappiamo che non è vero, che non è così, che tutto dipende, che un autore pubblicato dagli editori migliori può essere un deficiente, un autore autopubblicato può essere un artista geniale e viceversa, quindi non ha importanza il marchio, non è il marchio che fa l'artista, ma l'artista in sé, quindi non c'entra nulla. E questo, e spero lo sappiate altrettanto bene, non significa che chiunque venga pubblicato da un editore grosso, per esempio, è un cretino, non è vero neanche questo, no? Anche una persona pubblicata dal migliore editore non sempre è un raccomandato, non sempre è una brutta persona, non sempre ha scritto un libro brutto, commerciale, superficial, non sempre. Ecco, tutto dipende. Però il pubblico lì fuori ha invece delle opinioni molto nette, molto stereotipate, ricche di pregiudizi, in questo, come in qualsiasi altro campo, se vogliamo, quindi la massa che non è nessuno di noi ma è l'insieme di tutti noi è stupida e quindi ha queste opinioni molto superficiali. Ed è chiaro che uno dei problemi legati a questo è che quando noi ci autoproduciamo verremo automaticamente fatti mira di domande cretine, tipo ma perché tutta questa fretta per autopubblicare, anche se magari avete aspettato 25 anni prima di farlo, però si dà per scontato che la vostra sia fretta oppure vi chiederanno perché hai autopubblicato, perché non hai cercato tra gli editori come se necessariamente fosse il risultato dell'essere stati scartati da tutti e a volte lo è, intendiamoci, lo sappiamo, no? Cioè spesso succede così però quando per voi non è così è un po' inquietante. Cioè io continuo a stupirmi delle domande che mi vengono fatte su questo perché ho smesso di contare le volte in cui in questo periodo mi hanno chiesto e ma come mai hai rifiutato tutti gli editori? Cioè lo sconvolgimento, no? Quando uno, vabbè, non è che ho rifiutato tutti gli editori e attenzione, non esageriamo, ma semplicemente perché non mi conveniva, cioè perché non sono impazzita e non mi sembra così strano. Però questa cosa cattura l'attenzione, non so se mi spiego, E non vuol dire che la persona che mi fa la domanda è scema, però è normale anche questo, cioè è normale dare per scontato che pubblicare con un editore sia più bello e questo è il problema. Ciò potrebbe scivolarci addosso senza particolari traumi e ripeto, io rido di queste cose perché a forza di sentirle e risentirle diventano dei ritornelli, no? Per cui lo so già che la prima domanda ogni volta è ma come mai hai rifiutato gli editori? Cioè sei pazza? Però comunque crea un certo pregiudizio nei nostri confronti inevitabilmente per alcuni non è così perché hanno una mentalità più aperta e comunque proveranno a leggerci prima di decidere se il nostro libro piace o meno insomma come dovrebbe essere però altri no altri continueranno a dire no io non ho niente contro l'autopubblicazione però non me lo leggo il libro autopubblicato mi leggo Mondadori soltanto nella mia vita proprio in generale e va bene così noi questo dobbiamo anche rispettarlo però dobbiamo prendere in considerazione il fatto che andrà così nel momento in cui evitiamo l'editore purtroppo è vero che in qualsiasi modo ci sarà qualcuno che avrà un pregiudizio nei nostri confronti perché diciamo che c'è proprio un pregiudizio nei confronti di chi scrive secondo me cioè se ti pubblica Mondadori sei un venduto se ti pubblica l'editore medio vabbè vuol dire che non potevi fare di meglio insomma se ti pubblica il piccolo che schifo cioè sì vabbè quelli accettano chiunque perché l'hai fatto affare se ti autopubblichi è che però cioè potevi aspettare un pochino quindi non c'è scampo come già ho detto ma sicuramente avere un marchio oppure se ve lo siete inventati voi oppure se aprite voi una casa editrice la fate per finta non lo so comunque vi aiuta quindi forse dovremmo farlo tutti per finta perché automaticamente il cervello umano decide che se c'è il marchio è meglio quindi questo pregiudizio c'è esiste lo sentirete anche voi e io non non l'ho sentito particolarmente finora perché appunto io parlo dei miei libri con voi che già mi conoscete quindi comunque sapete tutto il percorso dei miei libri cioè sapete che non mi sono svegliata una mattina e mi sono messa a pubblicare i libri a caso quindi non c'è questo problema per me in realtà e questo ci può dire qualcosa su come parlare dei propri libri funziona molto bene proprio perché appunto essere onesti diretti raccontare come è andata fa capire alle persone anche a quelle che hanno più pregiudizi del mondo che non c'è bisogno di fare questo discorso cioè che è inutile fare questo discorso però non tutti ragionano in questo modo quindi bisogna avere pazienza e accettare lo stesso però insomma nella mia esperienza non c'è stato chissà quale pregiudizio ma ci sarà senza alcun dubbio anzi nel momento in cui c'è vuol dire che stiamo cominciando a uscire dalla comfort zone quindi è meglio così ci deve essere ed è chiaramente qualcosa che metto in conto e dovreste farlo anche voi se scegliete di autoprodurvi perché ci sarà qualcuno che vi chiederà ma qual è l'editore come si chiama il tuo editore e quando direte no sono io il mio editore cioè mi sono autopubblicata vi diranno ah ma come mai cioè immaginate questo mi fa troppo ridere questa cosa perché per me è incomprensibile no quindi immaginate se io pubblico con Mondadori no e poi arriva qualcuno e mi dice ma chi ti ha pubblicato io dico con Mondadori e loro mi dicono ah come mai e dico boh mi hanno dato più soldi degli altri ma probabilmente accadrebbe qualcosa del genere non ne dubito quindi vabbè perché ripeto succede con qualsiasi cosa anche per questo non ha importanza perché tanto non crediate che se vi pubblica un editore grande non succede comunque chiusa parentesi quindi l'editore per ricapitolare a che serve serve ad aiutarci è chiaro che dobbiamo sceglierlo bene è chiaro che a caso prendendo a caso andrà malissimo e per questo il 90% dei racconti degli aspiranti autori sono disastrosi perché ammettiamo che il 90% se non di più degli aspiranti autori va a caso ed è disperata cioè sceglie chiunque appena uno gli dice sì ok ti pubblico basta il contratto è firmato abbiamo deciso abbiamo festeggiato stappato champagne ma non ci rendiamo conto che magari è meglio leggere prima gli accordi contrattare valutare se ci conviene o meno in fondo il discorso è tutto qui l'editoria in sé non è cattiva non è maligna non è qualcosa da cui fuggire dipende dall'editore dipende dal tipo di libro che stiamo scrivendo dalla nostra situazione personale soprattutto perché appunto se noi non abbiamo un euro se noi non abbiamo un euro non possiamo autoprodurci perché ragazzi dobbiamo investirci se no viene una schifezza dunque a quel punto il nostro scopo automaticamente sarà quello di cercare un editorio in gamba poi nessuno ci impedisce di autoprodurci comunque di trovare mezzi alternativi di impegnarci in un altro modo di lavorarci per dieci anni anche da soli purché sia pronto non lo so ragazzi lo sapete libertà evviva la libertà fate quello che volete io non giudico nessuno ed è chiaro che può capitare che un ottimo libro non riesca a venire fuori perché l'autore non ha i soldi da investirci e non trova degli editori può essere quindi se siete in questa situazione e provate lo stesso io vi voglio bene in ogni caso non ha importanza ma questo io parlo per la nostra convenienza non per una sorta di timbro di approvazione che dobbiamo ottenere non esiste nessun timbro di approvazione siamo liberi di fare come ci pare l'unico scopo l'unico obiettivo è che il libro sia bello bello nel senso di curato lavorato professionale il meglio che possiamo dare ecco perché è un peccato enorme buttarlo fuori quando non è al meglio che possiamo dare è tutto qua il problema ci tengo a specificarlo però appunto visto che non siamo tutti ricchi visto che insomma è un impegno economico importante curare un libro che esce e gli editori lo sanno bene non è detto che possiamo farlo da soli così come non è detto che possiamo occuparci della promozione parlavamo del fatto che tutti dobbiamo creare contenuti dobbiamo esserci tutti qui sulla rete a parlare ma in realtà non è possibile cioè questo spero che lo sappiate alcuni non ne hanno le capacità per esempio cioè io sono una cretina che sta qui e fa video malissimo e mi ascoltate non so perché tra l'altro ma che problemi avete pure voi però ci sono persone che hanno dei problemi d'ansia che non hanno i soldi nemmeno per comprare una videocamera che vivono in dei posti ancora peggiori di quelli in cui vivo io che magari non se la sentono per la loro sanità mentale di mettersi qui e esporsi perché comunque vuol dire esporsi senza contare che qualcuno può essere bravissimo nella scrittura ma poi essere veramente una sciofeca nell'esporsi a parlare su internet ne ho visti tanti di poveri autori che si mettono in gioco ci provano insistono ma in realtà sono inguardabili diciamolo ci sono quindi esiste anche questo dunque non è che tutti lo possiamo fare a volte è meglio avere qualcuno che ci aiuti e allora lì siamo noi un po' a dover essere intelligenti capirlo decodificare i nostri risultati cioè se io faccio video per dieci anni e mi rimangono dieci follower per tutto il tempo qualcosa non sta andando bene per esempio no la crescita è sempre graduale sempre molto lenta dobbiamo sempre avere molta pazienza ma dobbiamo anche essere in grado di valutare i nostri risultati quindi se da un lato vi incoraggio a tentare perché tentare non nuoce mai dall'altro chiaramente se non ce la facciamo per qualsiasi motivo non fa niente non moriremo magari ci serve qualcuno che ci spinga un pochino e allora lì il problema ce lo possiamo porre e il prestigio se vogliamo non riguarda soltanto il lettore fastidioso che sta lì a dire no io leggo solo Adelphi in latino in greco antico ma riguarda anche la scelta dell'editore che purtroppo mi viene difficile elencare come un pregio perché si è un po' perduta cioè ormai sono solo dei marchi piccolini che lo fanno ancora mentre i grandi editori generalisti è diverso il modo in cui lavorano rispetto all'idea di editore che abbiamo noi e che hanno anche i lettori tra l'altro e che quindi continuano loro a vedere come un ideale a cui tendere quello che vogliono cioè loro vogliono leggere libri scelti da Calasso della Delphi ma in realtà ormai non funziona più così nemmeno per Calasso tra l'altro però è così insomma la questione quindi in teoria il fatto di essere scelti in quel modo lì in quel modo bello dell'editoria di una volta che poi ne parleremo in un altro momento è bello è significativo ha un valore noi non ci dobbiamo dimenticare totalmente del valore dell'editoria e questo forse è il punto a cui volevo arrivare ed è bello che non lo sapessi nemmeno io prima di arrivare qui però sì è questo non dobbiamo farci inaridire il cuore eccessivamente dalla smania di essere importanti noi perché se è vero che la libertà è fondamentale per me lo è cioè penso sia il valore più importante per me nella vita e quindi è bello è bello averla è bello averla lì come possibilità e secondo me è importantissimo che ci sia giustissimo che ci sia nello stesso tempo però non possiamo dimenticare che il valore della scelta cioè il fatto di parlare per esempio con qualcuno che ne sa più di noi che ne capisce più di noi che può effettivamente darci dei consigli è inestimabile questa cosa non possiamo fare finta che non sia così non so se mi spiego su questo e anzi ditemi quello che ne pensate perché penso sia un punto interessante ma soprattutto dobbiamo finirla secondo me di vedere autoeditoria e editoria tradizionale come in antagonismo e questa è una cosa che facciamo molto in Italia molto italiana come direbbero in Boris non che all'estero gli editori non siano terrorizzati dall'autoeditoria lo sono abbastanza anche se sanno anche approfittarne di più di noi diciamo che tra autori lettori cioè non c'è questo contrasto così pieno di astio ecco e secondo me dovremmo finirla anche qui sono due cose alternative che possono coesistere tranquillamente un autore nella sua vita può tranquillamente autoprodursi e poi tornare nell'editoria e poi tornare ad autoprodursi in base magari al libro e va bene non c'è nessun problema non è un traditore della patria una volta o l'altra e l'editoria bella esiste può esistere ancora oggi così come esiste quella brutta e l'autoeditoria bella esiste come esiste quella brutta e così non so insomma se sono arrivata a un punto sensato però io proprio avverto questa questa spaccatura tra questi due mondi quando non capiamo che è sempre editoria è la stessa cosa ragazzi non cambia niente nel momento in cui io mi autopubblico io sono il mio editore non è che il libro non ce l'ha l'editore quindi che io sia Sara Gavioli autrice o che io fondi domani un'azienda che si chiama la Sara Gavioli Production è la stessa cosa sono sempre io le mie scelte sono sempre quelle e c'è il problema dell'autoscegliersi anche di questo parleremo in futuro e chiudo dicendo anche perché Guncan sta iniziando a grattare la porta chiudo dicendo io sto studiando tutti questi argomenti in questo periodo e non perché voglio buttarmi totalmente verso l'auto editoria e non parlare più di scrittura in generale ma perché credo sia una parte fondamentale che conosciamo poco di cui non sappiamo nulla sto scoprendo una letteratura sterminata sull'auto editoria in lingua inglese fatta bene non i guru che ti dicono diventa ricco minchiato e così ma proprio cose serie sulla scrittura l'editoria la produzione artistica la produzione di libri è una marea di roba interessantissima di cui nessuno parla quindi sto studiando proprio per questo motivo e ne voglio parlare con voi di più vorrei riuscire se riesco tra problemi sanitari mondiali e gatti e cose così a fare più video voglio andare avanti affrontando anche questi argomenti ma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi temi di quello di cui sto parlando vorreste più video che parlano di editoria di scrittura di pubblicazione fatemi sapere tutte queste cose nei commenti io vi ascolto vi leggo e ne parliamo comunque grazie mille anche oggi per avermi guardato ci si vede al prossimo video grazie e se volete sostenermi ricordatevi che un like un cuoricino nei commenti un ciao nei commenti un vaffanculo nei commenti mi aiutano sempre tanto oppure se mettete il dislike mi aiuta quindi vedete voi grazie mille al prossimo video ciao